Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. Una tregua durata una giornata e poi di nuovo guerra. E senza mezze misure. Il movimento non conosce pace. Di Maiani e Contiani si punzecchiano tutto il giorno. Un ping pong di stoccate. Belloni. Non la abbiamo eletta per colpa di chiamanie di protagonismo. I piani di chi voleva Draghi al Colle sono falliti. Poi si scontrano direttamente i pesi massimi. Giuseppe Conte punta Di Maio dopo le parole sulla direttrice del DISS. Ci saranno occasioni nella comunità dell'M5S per tutti i chiarimenti necessari. Sono state ore febbrili. Finora non c'è stato modo di chiarire il significato di alcune uscite. Il ministro degli esteri in serata si fa sentire. Alcune leadership hanno fallito. Hanno alimentato tensioni e divisioni. Poi l'affondo. Nel Movimento 5 Stelle serve aprire una riflessione interna. Conte preferisce non replicare all'attacco diretto. Ma chi è vicino al leader fa presagire che presto ci sarà la resa dei conti tra i due. Fonti autorevoli contiane. Invece. Ribattono. Si tratta di un gesto di disperazione dopo la sconfitta di non aver portato Draghi al Quirinale.